La presenza sul nostro pianeta di questi incredibili animali si perde nella notte dei tempi. Pensa che quando la vita milioni di anni fa è risolata negli oceani, i primi organismi ad esplorare la terraferma furono proprio gli araclidi. Da allora ce ne sono di tutti i tipi, piccoli, belli, brutti e velenosi. Ma oggi voglio mostrarti 9 ragni giganti che esistono davvero. Sei pronto? Iniziamo! Numero 9 Il ragno Cerbalus Il più piccolo ragno di questa lista è il ragno Cerbalus, che è stato scoperto in Israele nel 2009. Ha una lunghezza delle zampe di circa 14 centimetri e vive sottoterra. Di notte invece sbuca fuori dalle tane nelle dune di sabbie israeliane, perché è al buio che questo ragno ama cacciare. Numero 8 Il ragno errante brasiliano Il ragno errante brasiliano, con la sua estensione delle zampe di 15 centimetri, non è il ragno più grande del mondo. Tuttavia, possiede uno dei veleni più pericolosi per l'uomo. Il veleno di questo ragno raramente uccide esseri umani, ma il suo morso provoca atroci sofferenze. Numero 7 Il ragno dei cammelli Un mito circonda il ragno dei cammelli. Infatti, molte persone credono che questi ragni mangino cammelli umani, ma in realtà non è così. Il ragno cammello è anche chiamato il ragno scorpione, a causa del suo aspetto. Numero 6 La tarantola del re babuino La tarantola del re babuino è il ragno più raro del mondo. Questo enorme ragno ha una lunghezza delle zampe di 20 centimetri, ma non lasciarti spaventare, è quasi impossibile avvistarne uno. Numero 5 La tarantola nera della Colombia La tarantola nera della Colombia può avere una lunghezza delle zampe di oltre 24 centimetri, è però più di colore nero ed è ricoperta da peli biondi e da segni rossastri. Questo ragno è un predatore estremamente aggressivo, ma fortunatamente è innocuo per l'uomo. Numero 4 La tarantola rosa ciliegina La tarantola rosa ciliegina è uno dei ragni più grandi del mondo. Può avere una lunghezza delle zampe di oltre 25 centimetri. Ciò che rende speciale questa tarantola è la sua longevità, visto che può vivere ben 25 anni. Numero 3 La tarantola poesiloteri a Rajaei Numero 3 La tarantola poesiloteri a Rajaei La tarantola poesiloteri a Rajaei è stata scoperta in Sri Lanka nel 2009. Ha una lunghezza delle zampe di circa 20 centimetri e una fascia grigio-rosata sull'addome. Questi ragni amano vivere in vecchi alberi, rocce e soprattutto abitazioni umane. Quindi, occhio! Numero 2 La tarantola rosa salmone La tarantola rosa salmone vive nelle foreste pluviali e ha una lunghezza delle zampe di circa 25 centimetri. In casi del tutto eccezionali, solo il suo corpo può raggiungere i 30 centimetri e le sue zampe toccare i 30 centimetri di lunghezza. Questo ragno si è diffuso in tutto il mondo grazie alle esportazioni di banane, visto che ama nascondersi fra di esse. Numero 1 La tarantola golia Il ragno più grande e pesante del mondo è la tarantola golia. Questo ragno è abbastanza grande da mangiare interi uccelli. Può raggiungere i 31 centimetri di lunghezza corporea e avere zampe lunghe più di 30 centimetri. Per darti un'idea delle sue dimensioni, il suo corpo è grande quanto un pugno di un uomo adulto e le zampe lunghe quanto l'avambraccio di un bambino. Davvero pazzesco. Bene, questi erano i 9 ragni più grandi del mondo. Conoscevi le dimensioni di questi ragni? Ne hai mai visto uno? Dimmelo nei commenti e non dimenticarti di iscriverti, lasciare un like e condividere il video. Ciao curiosone, a domani!